Ciao, sono Matteo Crescimbeni, gioco a tennis da 5 anni e da 2 anni mi sono rivolto a maestro Marco Nacchia per la mia preparazione atletica e lui mi ha proposto il metodo MAP Functional Training con la quale mi sto trovando molto bene e con la quale sto trovando molto di aggioramento sia sotto il punto di vista cardiovascolare che dal punto di vista della coordinazione e della resistenza. E' un metodo che consiglio vivamente a tutti, molto profico e vi ringrazio. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.